Buongiorno e bentrovati con l'informazione su Calabria News 24. Iniziamo subito con il sommario. Reggio Calabria. Un cittadino georgiano è stato tratto in arresto dalla polizia con l'accusa di aver tentato di strangolare l'ex ragazza. Calabria. Vertice tra il presidente facente della regione Calabria Nino Spirlì e i direttori generali dei dipartimenti. Calcio. Due giorni di Coppa Italia per le squadre calabresi. Iniziamo con la prima notizia di cronaca. La polizia di Reggio Calabria ha arrestato un georgiano perché aveva tentato di strangolare la sua ex ragazza. L'intervento è stato attivato sul richiesto di aiuto della donna rifugiatasi nei locali della questura per sfuggire all'ultima aggressione proprio dell'uomo che in una piazza cittadina aveva tentato per ben due volte di strangolarla. La vittima impaurita e lacrime ha richiamato l'attenzione degli agenti della polizia rifarendo di essere stata aggredita e picchiata dal connazionale entrata con lei nell'androne della questura che peraltro continuava a minacciarla. Il cittadino georgiano è stato prontamente formato e alla donna sono state prestate le prime cure del caso dal personale del 118 che ha potuto accertare la presenza di graffi e lividi sul collo della vittima. L'uomo è stato arrestato per atti persecutori mentre la vittima è stata trasportata presso l'ospedale dove è stata curata per le ferite. Emergenza Covid e individuazione delle varie criticità per capire il lavoro da pianificare. Se ne è discusso presso la cittadella regionale nel corso di un incontro tra i direttori generali dei dipartimenti e il presidente Nino Spirli. Ce ne parla nel servizio Paolo Talarico. Un vertice per stabilire le priorità dell'emergenza Covid ma anche un confronto per conoscere in maniera dettagliata le criticità esistenti. Questo è il senso dell'incontro che ha visto protagonisti tutti i direttori generali della regione Calabria e il presidente Nino Spirli per mettere a punto le strategie amministrative per il prossimo futuro. Un confronto con i vari responsabili dei dipartimenti della cittadella che è servito per analizzare l'attuale situazione della regione anche e soprattutto alla luce della seconda ondata della pandemia da coronavirus ma anche per pianificare le strategie amministrative che caratterizzeranno i prossimi mesi. I direttori generali hanno palesato la loro disponibilità a lavorare in piena unione e collaborazione e il confronto si trasformerà in un tavolo permanente per permettere a tutti i dipartimenti di lavorare in sinergia. Il palazzo del Spirli continua dunque a rimanere aperto e disponibile non solo all'ascolto ma anche all'accoglienza dei calabresi e all'accoglimento di tutte le urgenze e le necessità e le richieste che arriveranno in questo particolare e difficile momento per la nostra regione e per l'Italia intera. I numeri dei contagi aumentano in tutta la regione. Situazione difficile a Cosenza con l'ospedale in emergenza e anche nella Presila soprattutto nelle case alloggio di Casari del Mango e San Pietro in Guarano. Il numero di contagiati sale. L'emergenza è davvero totale in Calabria, regione che ieri ha fatto registrare un nuovo record nel numero di contagiati. A Cosenza la situazione è decisamente complicata. La Task Force, l'azienda sanitaria provinciale, ha chiesto al commissario straordinario per la sanità calabrese il trasferimento immediato e urgente di tutti gli ospiti della casa alloggio L'Incontro di Casari del Manco e dalla casa alloggio di San Pietro in Guarano. Tutti gli ospiti sono infatti positivi e anche parte del personale. Ma la situazione resta difficile anche nella città di Cosenza, con l'ospedale in situazione di emergenza, con i reparti saturi e un solo laboratorio attivo per processare i tamponi. Troppo poco per gli attuali numeri del contagio. Anche il sindaco Mario Chiuto ha fatto riferimento a questa situazione e ha inoltre chiuso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, ricadenti in tre istituti comprensivi della città, a causa di contagi diffusi tra alcuni studenti e docenti. E cambiamo decisamente argomento, perché nella piana di Siberi, in provincia di Cosenza, si coltiva il migliore riso d'Italia. È quanto hanno stabilito alcuni esperti. Ce lo spiega nel servizio Natalino Stasi. Quando si parla di riso, la graminacea più famosa al mondo, la mente non può che andare alla culla della civiltà del riso, ovvero l'Asia. Dall'estremo Oriente, il riso intraprende solo dopo millenni la sua diffusione verso Occidente. Oggi l'Italia è diventata il maggior produttore europeo di riso, vantando una grande varietà di produzione, industriale e artigianali, con consumi che si attestano sui 5-6 kg all'anno per persona. Ma per un riso italiano di qualità, non è necessario otterpassare i confini regionali, poiché il miglior riso d'Italia si produce nella piana di Sibari. Secondo l'opinione degli esperti, infatti, il riso di Sibari è un prodotto molto più sapido rispetto agli altri che si trovano sul mercato. Questo, grazie all'influenza del sale marino, che pervade anche il suolo, e al particolare microclima calabrese. Questi elementi classificano questa qualità di riso come unica, quindi tra le più ricercate in Italia. Noi andiamo a sfruttare dei terreni salini, l'accuratezza che porce nella selezione delle materie prima, la vicinanza del mare, il vento, il microclima proprio che siamo ubicati, formano appunto questi microelementi che poi ci distinguono come prodotto finale rispetto agli altri. Oltre ad essere coltivato nel territorio calabrese, il riso viene anche lavorato in maniera totalmente artigianale, proprio come fa dal 2006 Maggisa, realtà imprenditoriale di spicco del settore, che nella piana di Sibari opera con circa 700 ettari di risarie ed un'opificio adibito alla lavorazione. Da Ferrara a Lampedusa, Maggisa è la prima riseria che copre un'estensione di quasi 700 ettari. La coltivazione e la lavorazione artigianale sono dunque la scelta vincente per un prodotto che giunge sulle tavole degli italiani, mantenendo tutte le sue qualità benefiche ed il suo sapore deciso e intenso, sinonimo della sua alta qualità. L'obiettivo che ha Maggisa è quello di creare, coltivare e far passare tutto dalle proprie mani, quello che è la scelta delle materie prime. Dalla semina al confezionamento, occupandosi personalmente di tutte le fasi, consentendo così di mantenere l'originalità del prodotto e garantendo un controllo completo di tutta la produzione. Consumare un prodotto artigianale, un prodotto autoctono, un prodotto sano, dove tutto quello che c'è in un chicco di riso è davvero fatto con tanto amore e con tanto cuore. E chiudiamo con l'ultima notizia di sport. Calcio, settimana di Coppa Italia per le squadre calabresi. La regina ha già perso la sua sfida ieri sera contro una squadra di categoria superiore di Serie A come il Bologna, mentre oggi sarà la volta del Crotone e del Cosenza Calcio. Il servizio è di Paolo Talarico. La Coppa Italia non può essere un obiettivo per le compagini calabresi, ma è certamente un'occasione per permettere di crescere e, perché no, di giocare sfide contro squadre importanti. Ne sa qualcosa la regina che ha perso ieri nel primo dei due giorni di Coppa contro una squadra di categoria superiore come il Bologna. Gli Amaranto hanno dimostrato di potersela giocare per 70 minuti e hanno ceduto solo nel finale. Ma c'è anche chi oggi scende in campo da favorita per provare ad agguantare i sedicesimi di finale. In primis il Crotone, che le sfide contro squadre importanti e ha disputo ogni domenica, ma che ha bisogno di giocare per migliorare la propria condizione, soprattutto in difesa. I pitagorici sfidano la Spal e, in caso di vittoria, troveranno poi il Monza ed eventualmente agli ottavi il Sassuolo. Ai quarti potrebbe esserci la Juventus, ma è ancora presto per guardare troppo avanti. Scende in campo da favorita anche il Cosenza, che sfida il Monopoli. I rosso-blu sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Le cinque gare di campionato sono finite tutte con un pari e, nel precedente turno di Coppa Italia contro l'Alessandria, la squadra di Occhiuzzi l'ha spuntata solo ai calci di rigore. In caso di vittoria, i Silani potrebbero trovare il Parma, che sfida il Pescara. E già ai sedicesimi, invece, la Sampdoria. I blucerchiati potrebbero incrociare il Genoa, ma prima di arrivare al Derbe alla Lanterna, i Liguri dovranno avere la meglio oggi sul Catanzaro, che proverà a fare lo sgambetto all'11 di Maran. Bene, con questa notizia di sport chiudiamo il primo appuntamento dell'informazione su Calabria News 24, però io vi ricordo che ci potete sempre seguire sul sito www.calabrianews24.com. Grazie di tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento dei nostri programmi.